E' andata benissimo Conclusione dell'italiano Molto inaspettata Monta Mike Cross Country Sembrava che Fontana avesse vita facile Poi cos'è successo? Niente, la pioggia ha messo Ha cambiato tutte le carte in tavola Il percorso non era più quello che avevamo provato Completamente differente Non si stava in piedi, c'era molto da guidare La scelta delle gomme è stata veramente fondamentale Lui è partito con un intermedio Io sono partito con dei tubolari Versatili, vanno bene ovunque Andavo meglio Correre a piedi Mi sono allenato E' andata benissimo Non ho parole Cosa vuol dire per te questa vittoria? La vittoria che tutti sperano Grazie La prima ha risultato Veramente buono Sono veramente contento Molto inaspettata Adesso programmi per le prossime gare? Vedrò di preparare Un mondiale Se è possibile avere la convocazione Adesso vediamo Penso proprio di sì Insomma ho fatto una bella stagione Spero andrà bene Che complimenti